Il termine è in parità a Belgio Croazia, siamo con il migliorno in campo a Salvatore Iazzetta, un commento al termine della partita? È stata una bella partita, è stato meglio così perché eravamo tutti amici, sia entrambe le squadre, quindi è stata una bella partita e il pareggio ci sta. Speriamo alla prossima che andrà tutto bene e che passiamo il girone. L'obiettivo del torneo è passare il girone, arrivare in fondo, vincere il torneo? No, già per arrivare in fondo è una bella soddisfazione perché siamo tutti ragazzi che siamo cresciuti per strada a giocare, quindi è già una bella soddisfazione. Poi se lo vinciamo pure ben venga.